Guarda che hanno fatto i topi, guarda, sono passati da qua, Nocciolina li sta segnalando a tutta forza, guarda, sono passati, sono arrivati di qua, da Nocciolina impazzita, guarda qua, guarda qua, ora Eric gli ha dato un calcio e l'ha chiuso, ma Nocciolina lo sa che ci sono. Ora stiamo trasferendo i gattini, ci stiamo ammazzando e sono arrivati alla tartaruga, guarda qua, guarda il foro, guarda il foro dei topi di merda, io devo dare la tartaruga a qualcuno che la può tenere al sicuro, perché ora se la mangeranno questi topi di merda, la tartaruga è qua poverina, qua, Eric gli ha messo pure queste cose così loro lavorano indisturbati, arrivano e me la uccidono, ma io non posso permettere questo, non posso, ora devo sistemare i gattini, ma devo trovare una soluzione, magari il telefono a mimma se se li può prendere le tartarughe, non posso farli uccidere, ma da Nocciolina è impazzita, vedi perché lo sa che è pieno di topi qua sotto, e anche sotto l'altro contatto.